allora ciao ragazze ciao a tutte e a tutti dunque nuovo video make up questa volta prometto, speriamo bene perchè non lo so neanche io e voglio promettervi che riuscirò a fare questo video perchè è la nostra volta che provo a registrare e non riesco mai proviamo questa tanto voglio sicuramente mi stia registrando il video ma... no 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 allora innanzitutto vi dovrei fare il less facile perchè sono in una condizione pessima già e c'ho anche qui il mio specchietto tanto... ah è bello dovevo accattinare qua stavo rispondendo però questo matito non vettino bene mi sto guardando di la perchè non allora l'altra metà lo sto registrando così come viene ho utilizzato questi questi e questi tutti questi vedete questo questo qua e questo e quell'altro ancora non ve li sto guardando scritto perchè sennò non mi registro più niente e niente poi ho messo sempre del flawless 4 questa qua ho messo questo mascara qui il correttore di il correttore infallibile di L'Oreal e poi il rossetto di Wicon e infine la terra bla... la terra... la terra semplice del Grimmel un l'altro tutto nell'info box vi dico commentate al video non so cosa avvolterò vediamo ciao grazie semplicito questo video mettete like commentate iscrivetevi e attivate la campanella ciao no da questa parte mi viene male ciao ok perfetto ok ok perfetto se vi è riuscito ok bene dunque adesso vado allora a prendere se non cade tutto qua a prendere flawless 4 questa e ovviamente userò qualche pennello se lo trovo si aspettate un secondo se non mi cade tutto qui no questo lo metto di qua perchè non vorrei che questo pennello di qua mi cadesse il vasetto cioè il bicchiere che che non il che che è l'unico che è che ti che che non che